Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Sifu, quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Prendiamo a sberle qualcuno, forza. Otto anni fa. C'è qualcuno che sta fuggendo? Dobbiamo seguirlo, ti prego. Dimmi di sì. Eh, che ho fatto? Modalità detective? Che sta succedendo? Entriamo, entriamo qui. Attacchi pesanti. Ah, dovevo proprio distruggere la porta, bene. Devi a oppara L1. Ok. Uh. Non ha capito niente. Cosa è stato? Niente. Hello? Uh, ma quanti ce ne stanno? Che succede? Chi sei tu? Ehm. Chi è il primo? Fatevi sotto. Uh. Oh no, scusa, scusa. Ehi, volevi? No, no, raga, però. Raga. Non vale, tutti contro uno. Uh, bam, bam, bam. Raga, non sto capendo niente, però le sto facendo fuori in qualche modo. Uh, uh, no, 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 però. Perché non pari? No, però, para, para. Ok. Tocca a me. Perfetto. Non ho capito bene come si combatte, però. Le ho fatti fuori in qualche modo. Ah, ecco. Finalmente vediamo il volto del nostro protagonista. Fatti avanti. Ma con chi stai parlando? Vai, arrampichiamoci. Uh. Cazzo di paura. Non avevi detto che avrebbero lottato? Sto a malapena sudando. Setacciate il posto. Non deve uscire nessuno. Quindi, quindi questo è il mio amico. Ma un paio di sberle le do anche a lui. Oh, piccolino, ti fa male la gamba. Lanciano le bottiglie. No, 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 no. Non tocca a me. Via. No. Eh no, non si fa. Non si fa. Non si fa, hai capito? Ho detto non si fa. Corriamogli contro. Non se l'aspetta. BAMMA! Uh, che bella questa mossa. Che c***o ho fatto, raga? Madonna, raga, bellissimo. Dà una certa soddisfazione questo gioco. Uh! Madonna, raga, che sto facendo? Che è successo? Dov'è? E rispondi! Mannaggia, guarda che... Ti tiro due punghi pure a te. Ma chi sto cercando? Il maestro... Il maestro... Nemico? Yang. Ma certo. Si è diventato lento, Sifu. Ah, è lui, Sifu! Il titolo del gioco è lui. Sai perché sono qui, non è vero? Fatti da parte. Mi sa che non si farà da parte. Sei stato uno sbaglio. Non avrei mai dovuto insegnarti. Ora sai troppe cose. Ma cos'è, raga? Il primo Kung Fu Panda? Tornando qui stasera mi hai dato una seconda possibilità. Quella di uccidermi, vero? Questa volta farò quel che devo. Ecco. Ecco. Sì, vabbè. Due pugni all'aria. Madonna, raga, è difficile. È difficile. Aspetta, che fa la... Eh, eh, fammi... Fammi la mano un attimo. Che fa l2? Non capisco. Spazzata potente, vai. Uh, quindi mi dà dei suggerimenti. Forza, si alzi, maestro. Perché non si alza? Eh, beh, raga, se faccio sempre questa mossa, ho vinto. Vieni, fatti sotto, fatti sotto. Che ho fatto? Vieni, vieni, vieni. Vieni. Perché non combatte più? Si è stancato il nostro personaggio, forse. Vabbè. Sto per morire, praticamente. Quando ti guardo negli occhi, non vedo altro che un ragazzino spaventato e arrabbiato. Uh. Ok. Uh. Via, via. No, 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 no. È veramente intenso questo combattimento. Bene. Uh. Bel combattimento, raga. Questo sarà il figlio del maestro? Ma quindi io sono dalla parte del cattivo? Vieni fuori. Ah, vedi? Ok, ora abbiamo interpretato il cattivo. E poi interpreteremo il nostro ragazzo qui che è stato appena scoperto. Scegliamo ragazzo. No, 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 no. No, ti prego, ti prego, ti prego. Non ho fatto niente, non ho fatto niente, ti prego. Non sono morto. Vabbè, il padre è morto, era il maestro e ora inizia la sua vendetta. Va bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.